Venerdì 9 agosto 2024, un buongiorno da tutta la redazione di TRM H24 e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra edicola. Insieme leggeremo e commenteremo i quotidiani di taglio nazionale e locale. Iniziamo proprio dal Corriere della Sera che in primo pagina parla di guerra, prosegue l'attacco ucraino nella regione di Kursk, l'Europa con Kiev colpire Russia è un suo diritto e Biden su Gaza, vertice a Ferragosto per la tregua. E poi vediamo una grande spazio dedicato alle Olimpiadi di Parigi. Canoa d'argento, Jacobs 4% in finale. Qui vediamo Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita festeggiano la vittoria della medaglia d'oro a Marsiglia che bissano nella vela e il decimo oro come a Tokyo. E ancora vediamo le ragazze del volley, Turchia battuta, ora la finale, le ragazze del volley, il sogno continua. E l'azzurra, la rissa, quarta nel lungo, il razzismo, ma mafiona accusa. E ancora guardiamo sempre nel taglio centrale, si parla di diritti, il no, l'eutanasia e l'accanimento terapeutico. Vaticano, spirali sul fine vita, mediazione per una legge. E ancora emergenza carceri, il colle sorpreso per l'incontro chiesto da Nordio. E ancora nel taglio basso vediamo che si parla del mistero del lupo rubato di Bansky. In un video il furto a Londra, l'ipotesi di una performance indaga Scotland Yard. Ed è giallo nel Varese, muore in vacanza, picchiato dai buttafuori. E invece nella prima pagina di Repubblica si parla di concessione delle spiagge, volta faccia balneare. Oggi lo sciopero degli ombrelloni per protestare contro Palazzo Chigi, che ha detto sì alle gare, presi in giro dal governo. Imbarazzo di Meloni, da paladina anti-Bolkestein e a Premier che applica la direttiva della UE. Si ferma anche il papete. La custodia cautelare divide la destra, via libera del colle, sul di sui DL carceri. E ancora no, accanimento terapeutico, si continua a parlare del Vaticano, apre sul fine vita, serve una mediazione. E ancora nell'articolo di spalla, Ucraina, Zelensky e Putin ci avete portato la guerra in casa, ora dovete sentirla. E ancora la fotonotizia, si parla della lezione delle due Inghilterre, antirazzisti e antifascisti in piazza dopo gli scontri nelle città inglesi. E ancora il personaggio, beffa la polizia, parla a Barcellona e sfugge all'arresto. E ancora nel taglio centrale del quotidiano, banche, Montepaschi di Siena, Unipol, veto di Palazzo Chigi, no alla sinistra, si parla di scuola, patria e dovere, l'educazione contro Valditara e delle Olimpiadi, il volerose in finale in una giornata di medaglie azzurre. E guardiamo invece insieme la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, Gli spiaggiati. Oggi sciopero flop sui lidi, spaccato il fronte balneari, si cita dal 13, la diga di Occhito chiude i rubinetti. E come sempre abbiamo il commento, il commento e nelle contrade risuonò il grido dagli ai turisti e l'analisi, le due sinistre, Medimbari, Tralliti e Poltrone. E all'interno della Gazzetta si parlerà di giochi del Mediterraneo sbloccati tutti i cantieri, Taranto dal governo, Occhè Finale, fondi anche allo stadio di Lecce. E nel taglio centrale si parla di criminalità, le zone gestite dalla mala di Iapigia per i clambaresi, affari milionari dalla prostituzione, molte le ragasse straniere. E ancora Zess e Giosi Romano, il coordinatore unico. Plauso bipartisan, ma restano le polemiche sulle coperture. E nel taglio basso della prima pagina della Gazzetta si parla di indiani stregati da brindisi, investimenti dopo il G7. Sui social sono in arrivo possibili partnership. E ancora la Taranta, nella Ragnatela, l'orchestra arriva a Ugento, il direttore Grassi, tradizioni da preservare. E dalle province potenza RSA verso il fallimento, 4.000 assistiti a rischio sfratto. Stretta contro l'alcol Decibe, la Gallipoli si spegne la musica. Trani nascosero il corpo del padre, a processo i due figli e la nuora. Guardiamo insieme invece il Corriere del Mezzogiorno, che in prima pagina parla della Premier in vacanza. Meloni arriva in Puglia per le ferie, sole, le relax e maratone di burraco. E ancora l'europarlamentare ventola, crisi idrica, la regione senza progetti. E poi l'intervista al sindaco, la mia lotta agli spacciatori. Le cese dopo l'ordinanza anti-bivacchi, non voglio criminalizzare i clochard. E poi abbiamo la fotonotizia, il riconoscimento, lo sbarco dei 20.000 albanesi allo scrittore desiati le chiavi della città, ricordando la vlora. E ancora giunta comunale, le forgioni spaccati, rischio rottura per il centro-sinistra. E diamo adesso uno sguardo insieme all'interno del Corriere. E si parla, in primo piano abbiamo la politica. Cioè le messapiche si rifà il trucco, oggi arriva Meloni per le vacanze. E nemmeno un euro speso per l'emergenza idrica emiliano non interessa. L'intervista a ventola, nessun progetto sul sistema delle acque. E ancora si parla di politica, i contrasti di Bari. Non è un'ordinanza anti-clochard, dico no ai bivacchi degli spacciatori. E ancora nuova giunta, centro-sinistra nel caos, la forgiani scontenti. Ora si rischia la rottura. E andiamo insieme ancora a dare un'occhiata all'interno. Il fiume deviato da un privato, Taranto, il Pamunto, è un caso. I pompieri alla ricerca di acqua lo trovarono secco, usato per irrigare i terreni. Oggi lo sciopero dei balneari. Offriremo la colazione ai clienti, ma il governo ci deve ascoltare. E adesso guardiamo insieme la Repubblica Bari. In prima pagina, i forzati delle piazze a rischio, droga e risse, qui è l'inferno. Commercianti e residenti arriva all'ordinanza del sindaco di Vito Leccese sulla sicurezza. E ancora l'intervista piemontese al mare, non ci sono di vieti, devono accedere tutti. L'emergenza sui città, da diga di occhito, stop acqua agricola dal 13 agosto. E ancora si parla di economia, salute e high tech. Italo ravola New York, mercato strategico per il Med in Puglia. E ancora in primo piano troviamo il tour nelle piazze del degrado tra droga, alcol, non viviamo più. I commercianti e residenti approvano l'ordinanza del sindaco Leccese. E ancora le trattative. La forgia attacca giunte in bilico e se è Verdi Uniti, Movimento 5 Stelle, può entrare. E ancora si parla di cronaca piemontese. Il mare è di tutti, ora basta di vieti per l'accesso. Chi vuol pagare può farlo, è giusto che posso soffrire di un servizio confortevole, ma chi non può non deve essere sfavorito. E poi la storia. Bagnino a 18 anni, salvaturista, lavoro per studiare medicina. E adesso guardiamo insieme la prima pagina dell'edicola e dell'edicola sport. Allora vediamo la questione. Fondi per il sistema dell'Irpinia, interventi mai completati. La protesta, concessioni balneari, sciopero ma non troppo. E ancora, sede Rai semivuota ma costa 48 mila euro. Il palazzo storico al centro di Lecce che ospita la redazione della Rai. E vediamo insieme invece l'edicola dello sport. In prima pagina il Bari ora prende fiato. Ultimi tasselli per Longo, solo dopo Ferragosto. L'attaccante barese Anthony Partipilo, il sogno proibito di molti tifosi biancorossi. E ancora, parliamo di Olimpiadi. De Giorgi, Acerenza, speranze finali, di medaglia. Ricordiamo che i ragazzi del volley si giocheranno il bronzo contro gli USA. E ancora, serie C. Ecco il DG Lucchesi del Taranto. Io traghettatore. E poi parliamo di scherma. Samele campione per caso casinista e vivace. Anche qui nella scherma l'Italia ha vinto un bronzo. Adesso guardiamo insieme le prime pagine del quotidiano di Bari e del quotidiano di Foggia. Il quotidiano di Bari apre in prima pagina dopo il ricorso contro l'inelegibilità di De Caro, presentato un altro ricorso contro Leccese, il neoprimo cittadino a rischio decadenza. Se fosse accertata la sua mancata uscita preventiva dai ruoli di responsabilità ricoperti con la precedente amministrazione. E dalla Regione Puglia stanziati 20 milioni per le borse di studio. E ancora parliamo di tassa di soggiorno. Il Comune incassa 2,7 milioni di tassa di soggiorno in dieci mesi. Più di 645 mila i turisti tra ottobre e agosto. E uno dei dati resi noti nel corso della riunione tra il sindaco Vito Leccese e il comitato di indirizzo. E ancora si parla di ASL, i medici di medicina generale nelle contrade di Monopoli. Oltre 4.500 ammessi, nominata la commissione esaminatrice per la ASL. Per la ASL termina basso ulteriori provvedimenti relativi alla circolazione su via Capruzzi. E ancora in taglio basso, in curie e pericoli, si frattura il braccio su una giostrina comunale. A farsi male un piccolo di appena 5 anni e ora i consigli dei municipali andranno a fondo. E anche qui si parla di sport. Bari ieri, primo allenamento per Mantovani, ACIC verso Ascoli. E adesso vediamo insieme la prima pagina del quotidiano di Foggia. Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera San Giovanni Rotondo. Le zone grigie distruggono e fanno male. Tacere diventa una colpa e parlare è un imperativo etico. E dal 13 agosto niente acqua per l'agricoltura dalla diga di Occhito. E guardiamo ad ora la prima pagina del Sole 24 ore da monocchiata all'economia. Orsini, la competitività deve essere al centro della politica industriale. Emergenza clima, ondata di calore con punte oltre 40 gradi nelle città. Il 2024 l'anno più rovente di sempre. E ancora borse in altalena. Morgan vede la fine delle turbolenze. E sud tra export e piccole e medie imprese prosegue la corsa dell'economia. Più 1%. E ancora uno sguardo alla guerra in Medio Oriente. Fonti di Amassi. Muir vuole la tregua prima dell'attacco iraniano. Bene, questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo letto quest'oggi insieme. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione con la nostra edicola.